Un saluto, ben ritrovati, buona giornata da Milanello, la casa del Milan e dei Milanisti su YouTube. Se siete cuori rossoneri, mi raccomando, iscrivetevi anche voi. Arriviamo presto a 90.000 iscritti, non fermiamo, ci siamo sempre più numerosi. Come dico sempre, un grazie ai vecchi, un benvenuto ai nuovi che si iscriveranno nel corso di questo video, magari proprio in questo momento, su questa zona della bandierina. Atticate, attivate, scusate, la campanella, mi raccomando. Commentate, come sempre ci piace condividere il punto di vista, con due regoli basilari, civiltà e rispetto. Ovviamente non possono mancare all'interno di una community, a maggior ragione fuori, ovviamente, dai social nella vita di tutti i giorni. Oggi è una giornata di avvicinamento importante, è già vigilia, ragazzi. Abbiamo giocato l'altro ieri, domani già si gioca, e quindi sarà importante capire oggi, dalla rifinitura, chi scenderà in campo con, immagino, un turnover robusto, più logico rispetto ad altre volte, perché mentre nella gara precedente con l'Empoli abbiamo fatto turnover, ma giocavamo di venerdì e poi avremmo giocato di mercoledì, con il mezzo sabato, domenica, lunedì e martedì, questa volta abbiamo giocato di mercoledì, giochiamo di sabato e poi giochiamo di martedì, quindi tre partite in sei giorni è inevitabile fare turnover. Questa volta, poi vedremo che tipo di scelte farà il mister, non si potrà dire nulla rispetto a distribuire le energie e far rifiutare qualcuno, questo è chiaro. Con il Bologna sarà tosta, sarà molto tosta. Non dico che firmerai per il pari perché siamo il Milan, però, insomma, loro sono in grande forma, giocano in casa, noi siamo anche un po' stanchini, ovviamente. Abbiamo poi un'altra gara di Champions tra pochissimi giorni, quindi una partita delicata, anche perché la classifica non permette di fare calcoli e, tra l'altro, la prossima settimana sarà molto significativa perché martedì sapremo se saremo in semifinale oppure no. Mercoledì l'Inter credo non avrà grandi problemi, ma nel calcio mai dire mai, magari. Mercoledì sapremo anche se restituiranno i 15 punti alla Juventus oppure no, dopo che comunque l'altro ieri è stata chiusa l'indagine con accusa anche di sleata sportiva che è molto pesante. Vediamo che cosa succede. Sono giorni... è un aprile di fuoco, ecco. Questo sì. Tra l'altro credo che sarò a San Siro per la gara con il Lecce. Dovrei essere a San Siro se c'è qualcuno. Magari organizziamo un appuntamento, ci salutiamo. Detto questo, diventiamo subito seri perché è un video in cui ci sono diversi aspetti purtroppo molto seri che dobbiamo affrontare e che mi fanno particolarmente arrabbiare per non dire altro, ecco. Partiamo subito intanto con una cosa extra Milan ma che è dentro la sensibilità di ognuno di noi. Fatemi esprimere innanzitutto estrema solidarietà per quel povero ragazzo che nei giorni scorsi parliamo di calcio ma sembra tutt'altro quel ragazzo di 21 anni che è stato picchiato nei giorni scorsi a Roma perché indossava la maglia della Juventus. Di fronte a certe cose bisogna fermarsi, riflettere parliamo di calcio e qui questo tifoso, questo ragazzo era in un locale con la maglia della Juve uscito e l'hanno bloccato urlando lì che era uno sporco juventino e dopo averlo strappato la maglia di dosso l'hanno colpito al volto con un tirapugni arma di cui è vietata la vendita, lo ricordiamo un profondo taglio allo zigomo per cui è stato necessario un intervento un'operazione al volto. Un calorosissimo abbraccio che sicuramente non aiuterà a migliorare lo stato d'animo di questo ragazzo era doveroso denunciarlo seppur non sia una notizia legata al Milan però abbiamo il dovere di non abituarci a certe notizie che sono vergognose davvero parliamo di calcio ragazzi certe cose fanno venire la pelle d'occa così come sapere che in occasione di Milan-Napoli i tifosi che erano presenti a secondo anello verde sono fatti scandalosi hanno dovuto vedere e subire scene indecenti dai tifosi del Napoli o pseudo tifosi del Napoli perché spesso c'è il pretesto della partita per fare casino che rovesciavano, riversavano verso i sottostanti tifosi del Milan hanno mai capitato in quella zona ma era la zona di tifosi del Milan di secondo anello verde diciamo così i loro bisogni urine, sputi oltre che insulti che purtroppo ci sono sempre ma il resto davvero è una cosa che che sembra di tornare indietro di tantissimi anni fa io tra l'altro avevo l'abbonamento lì al secondo verde avevo fatto l'abbonamento a 18 anni lì e ricordo in particolare una partita con la Roma loro erano sotto erano il primo sotto e tiravano su di tutto insomma detto questo è una cosa che che non vorremmo commentare ma che è indecente davvero indecente in questo video però voglio prendere un po' tutto ecco questi sono sicuramente i fatti più gravi soprattutto quello del tifoso juventino al quale va la nostra solidarietà sono sicuro indipendentemente poi dal tifo che è diverso di fronte a certe cose bisogna scandalizzarsi tutti senza se e senza ma dopodiché vi dicevo ci sono altri fatti parlando più di calcio ecco innanzitutto è proseguita nelle ultime ore questa campagna mediatica mediatica dell'ambiente napoletano e non solo per cui sta passando il concetto che il Napoli è stato defraudato che l'arbitraggio ha penalizzato il Napoli e che il Milano è stato avvantaggiato per me è una cosa che non sta né in cielo né in terra bisogna saper vincere bisogna saper perdere forse sono stati abituati bene in campionato ma non sanno ultimamente non sanno perdere eppure due volte su due nelle ultime dieci giorni hanno perso con noi con cinque gol fatti zero subiti dal Milan zero fatti loro cinque subiti per loro ho visto anche purtroppo addetti ai lavori che stanno inquinando l'ambiente perché parliamoci chiaro io spesso mi sono lamentato lo scorso anno di episodi arbitrali ma erano oggettivi erano evidenti l'episodio Ranocchia Belotti il fischio di Serra e me ne dimentico sicuramente degli altri ma quando il Milan perdeva e in quella partita aveva avuto dei favori mai mi sarei permesso di dire che scandalo abbiamo visto ieri c'è un episodio clamoroso su Krunic un calcio di rigore e qualcuno ha detto al ritorno dovremmo pagare arbitri giornalisti colleghi senza poi tornare sugli episodi della Mixon con un paio di giornalisti che hanno insultato l'arbitro che passava davvero qualcosa di indecente purtroppo me l'avete segnalato in tanti sapete che i vostri commenti li leggo perché siamo una community in questo caso do anche voce a tanti che mi avete scritto questo nessun TG sportivo nazionale quindi diciamo così pay tv tv di stato mi avete segnalato anche su Italia 1 nessuno ha parlato di questo calcio di rigore sono stati visti gli altri episodi mi fido di voi ho visto anche io qualcosina non ho mai visto ripeto nelle tv nazionali questo episodio del rigore mancato non dato a Krunic che era invece sacrosanto e tanti hanno dato invece peso sfogo sottolineatura alla polemica di spallette dell'ambiente napoletano che secondo me è scandalosa come vi dicevo ieri è un peccato perché quello è un episodio il più episodio di tutti bisogna saper perdere davvero sono diventati dei piangina pazzeschi e poi su che cosa sul nulla su un mancato giallo Aleao davvero però nessuno parla di quel rigore di Krunic che per me è solare per tantissimi di voi lo è per qualcuno non lo è quindi voglio fare chiarezza anche qui di informazioni rispetto al vostro punto di vista mi spiace perché si sta facendo troppo cinema ricordiamo che Maldini prima della partita sull'episodio di Spalletti caso chiuso dice per quelli che sono i miei gusti lui ha parlato anche troppo non voglio più tornare Maldini molto infastidito da quella polemica dalla quella sceneggiata di Spalletti con il dito puntato all'andata o meglio al ritorno della gara di campionato dopo lo 0-4 era l'intervallo in quel momento non eravamo ancora sullo 0-4 Maldini è molto arrabbiato per le frasi che lui aveva detto mi è mancato di rispetto che si crede di essere queste cose qui c'è stile stile ecco ogni tanto noi abbiamo invocato di fronte episodi arbitrali clamorosi come Belotti Ranocchia come Serre eccetera eccetera la nostra società che potesse alzare la voce in certe situazioni dall'altra parte va detto che questa è cacciara vergognosa e che questo sta dando fastidio ovviamente anche al Mina non soltanto la polemica di Spalletti con Maldini ma anche tutto quello che stanno provando a far passare e personalmente sono molto arrabbiato perché sono fatti in generale vergognosi ripeto la cosa più grave è quello che abbiamo detto all'inizio ma tutto questo parlando di calcio insomma si sta perdendo un po' di serenità e si stanno inquinando i pozzi ed è una cosa brutta perché può essere un bel match Milan-Napoli ci sarà Napoli-Milan è tutto nelle potenzialità ancora del Napoli perché non è detta l'ultima parola anzi abbiamo solo un piccolo vantaggio buttarla su questo fronte secondo me è da squadra provinciale da squadra che magari vincerà il campionato senza magari da squadra che vincerà il campionato ma con queste cose secondo me sta dimostrando in generale una mentalità un po' provinciale che poi è giusto che paghino secondo me detto questo poi chiudo con un altro fatto che riguarda invece lo stadio è un video in cui non voglio fare il piangino è un po' di denuncia rispetto a fatti gravi non soltanto riguarda una mina avete visto quel povero ragazzo che mi fa capponare la pelle però San Siro la novità sapete qual è ah intanto fatemi dire una cosa perché non stavo bene in quel giorno avevo fatto il video Monguzzi che la scorsa settimana ha detto testualmente Beppe Sala eccolo qui dov'è 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 sul suo profilo Instagram quindi per cercare di tornare anche visibilità costruire lo stadio dell'area San Francesco di San Donato la nuova idea del Milan sempre aree coperte di verde prati sempre consumo di suolo tanto il fondo finanziario vuole solo speculare Beppe mandali a quel paese e speriamo che il sindaco di San Donato faccia altrettanto mandali a quel paese ma come ti permetti ma chi ti credi di essere mandali a quel paese ma questa è la comunicazione di un politico a Milano mandali a quel paese e poi volete dare il buon esempio volete che ci sia serenità intorno alla vicenda mandali a quel paese a quel paese stai dicendo a tutti che che te fai apposta a provocare e poi tu sei a Milano parla di Milano non con quella formula mandali a quel paese andrai tu eventualmente a quel paese e poi speriamo che San Donato faccia lo stesso ma 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 chi ti credi di essere l'ultima la volete sapere tenetevi forte questi ambientalisti che hanno nel verde secondo me una ragione di essere a livello di quadro politico un pretesto per essere nel quadro politico che cosa dicono è tutto a un limite a San Siro dicono no ai concerti che sono provisti provissimamente quindi si oppongono anche i concerti a San Siro davvero Milano 2023 invece di andare avanti si va indietro neanche i concerti adesso ragazzi tutto ha un limite mi sembra che il limite della decenza sia stato sopportato e quella frase di Manguzzi davvero conferma che non ci siamo proprio davvero una frase vergognosa di questo nuovo tentativo di esso di boccottare pure San Siro con i concerti fatevi la vostra idea io mi sono fatto la mia la leggerò qui sotto la vostra così vediamo se la pensiamo uguale quindi complessivamente ragazzi non chiediamo nel loro tranello è giusto però ribellarci rispetto a un clima che stanno creando brutto poco sportivo perché nello sport c'è anche saper accettare la sconfitta e l'arbitro in quella sconfitta non c'entra nulla anzi se proprio per colpa dell'arbitro non è stata una sconfitta di due gol di scarto perché il rigore di cronice è clamoroso detto questo dispiace purtroppo denunciare certi fatti quando la civiltà dovrebbe andare avanti invece sembra di tornare indietro ancora un clavroso abbraccio questo ragazzo non conosco il nome ma forza e gli altri che hanno fatto certe cose ecco avrebbe da dire come direbbe il mio amico francordini buttate la chiave non si arriverà tanto ma serve colpirli non si butterà la chiave ma qui siamo su fatti purtroppo gravi mando un abbraccio a tutti un video un po' diverso dagli altri però mi sembra giusto commentare il tutto denunciare il tutto e ribellarci iscrivetevi qui perché non sono solo io furioso lo è Maldini lo è il Minan iscrivetevi qui attivate la campanella siete dei cuori rossoneri superiamo i 90.000 iscritti grazie anche alle vostre iscrizioni che sono gratuiti un grazie ai vetti un benvenuto ai nuovi forza Minan oggi più che mai domani ancora di più domani col Bologna è dura commentate e lasciate un like se la pensate come me ciao grazie a tutti